musica 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 raga ho ammazzato lo shy guy da SCP 096 c'è allora non lo so faccio una partita due gioco vedo 181 con la pistola SCP 096 c'è il rosa il primo bull per essere per avere 462 coppia è buono non è vero mi mancano soltanto diciamo 70 vabbè 69 però 70 coppia per arrivare a prendere il grande e fantastico Brock perché ho trovato adesso faccio 173 la scultura e poi troviamo la 099 il quadro quello con le posate la tavola con un piatto con entro un occhio 099 poi poi tutti gli SCP fuori ci potrei fare un video la moto di minecraft ma che le sai ma non mi laggare dai devo che devo arrivare a queste mille coppie non mi laggare eccomi laggare aspettiamo un attimo fermi solo al finale no perché guardate i colpi non mi partono come faccio ok mi partono non è vero calmo cioè io non sto muovendo niente allora sparo risparo ok no dai perché raga non mi si muoveva bene dai devi vincerla vai 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 frank siamo tutti in te frank youtube con te grande frank matano frank matano ok ok siamo quasi ai 50 a 9 i 50 voglio cambiare lui ci mettiamo uno di grado non tanto alto dai dai andiamo di scialuzza scialuzza ma scialuzza ma un po' scherzo scialuzza c'è lì non mi piace a me devo dire la verità bibibibibi oh non me lo prende però è un genio che fa ancora più schifo secondo me io odio il brawler e il genio non lo vorrei mai avere infatti per fortuna non ce l'ho c'è lo vorrei avere per completare tutti i brulli però non lo userei mai troveri a livello 1 in grado 0 come è il primo io non lo uso tanto bravo Eugenio muori sei morto male ok ho preso la cassa e dov'è gli altri? facciamo qua facciamo qua perché questo è qua? hai preso 4? sai che lo prendo anche io 4? beh dettagli ti piglia ciabatta eh magari video scontro finale fermo a non fare niente maledetto schifoso e vabbè e sono morto raga come faccio a sopravvivere? raccolte forte ma più 5 a noi sta pur bene grado 5 20 cos belle allora raga in questo video forse 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 non ho sicuro forse sbloccherò broc ma non so perché o lo faccio a fk non lo so a sfido perché il video di solito non dura più di 20 minuti 20 minuti il massimo io so così perché sennò dopo tocca alla live non faccio video più di 20 minuti 20 minuti sì ma più no tipo 30 cose così no ho penne penne sembrava penne penne non so c'è non ho la skin death perché sono un hub capito perché guarda come l'amato ma è troppo guarda signori attenzione attenzianzo 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 allora non fa troppi roblox però ancora il video lo devo publicare cominciamo ok io lo devo registrare ma vabbè se ciao ciao uè pianghi ma pianghi mamma mia sono morto sono morto come venne uno ma ma cosa stai dicendo meno uno te lo do io meno uno la faccio adesso faccio sta partita e vedo il grado più basso quale raga ultima partita e poi se non arrivo a 950 in questa partita che faccio e allora vado a fk e arrivo a 950 o più e quando sono arrivato a 950 o più e tagli e muori va bene ciao sono Diego e vivo in un posto ciao buongiorno io ti ammazzo ma non è vero non ti ammazzo perché mi ammazzo non mi ammazzo loro non è detto vado schifo grande i bombardai no non c'è andare non c'è muore muore adesso muore adesso muore e adesso e vabbè ma che schifo vabbè che schifo allora adesso andiamo a vedere il grado più basso che ho allora vediamo un grado più basso è di il primo perché nita no perché ce l'ho a livello 5 lo mettiamo lui raga il leggendario ce l'ho il grado il primo non ti serve perché è tre volte più forte perché vedi il primo lancia un buon invece rosa lancia tre così tipo uno qua poi uno qua e uno qua io fugga perché c'è il primo più un tizio buongiorno what's up e volevi ma guarda come voleva buongiorno buon tanno perché gix non tutti tutti grax tutti iscritti di grax grax è forte grax anche se grax però non mi metto il nickname con gx glx come che cosa io sono volato via e voi non l'avete visto ehi matrix signori scrive tutto della matrix buongiorno dio sono io io non voglio morire non voglio morire non voglio morire non voglio morire è perché che va via buongiorno io metto qua quando arriva la tempesta io volava via allora vediamo un po' lo scontro finale buongiorno tu tu sei 40.544 volte più forte di me quindi io mi chiamo Diego perché la matrix le scrivo tutte non è via la matrix un cavolo ciao ok afk andrò diciamo che voi vedrete un taglio in cui io andrò a sbloccare le altre cioè andrò avanti diciamo con il cammino delle coppe quindi voi vedrete quando sarò arrivato dopo e raga abbiamo sbloccato brock boom e andiamo andiamo subito a provarcelo io andrei subito a provarlo infatti e proviamo in sopravvivenza andiamo farà schifo perché è livello 1 perché io ce l'ho al livello 1 perché ho sbloccato adesso io l'ho provato già in campo di prova ed è fortissimo raga il mio brawler preferito comunque tic non vale cioè io ho solo tic e tic ce l'ho già provato e non vale 4 1 coppe non vale 1 invece brock le vale guarda che c'è brock e brock e twilight twilight guarda un po rock rock brock 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 a me viene sempre da chiamare il brawler i rock oh è morto vabbè raga è normale perché ce l'ho livello 1 però è molto molto buono a me piace a voi se piace io secondo me è bello e quindi spero che vi sia uscito il video non ci sia mi piace iscriviti al canale e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao ciao